Paura in un condominio a Vicenza. Un forte odore di gas sentito da alcuni residenti ha fatto scattare le misure di sicurezza. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno individuato una perdita di gas proveniente da un appartamento dell'edificio. I pompieri sono entrati nella casa dove c'era la proprietaria che era ancora letto e non si era resa conto di nulla. La squadra ha subito chiuso tutti i contatori del gas e staccato l'energia elettrica e quindi ha fatto evacuare le famiglie presenti nello stabile. La donna che stava dormendo negli ambienti completamente saturi è stata salvata dagli uomini in divisa che l'hanno portata all'esterno. Dopo aver arieggiato tutti gli ambienti e aver ripristinato le condizioni di sicurezza le famiglie sono state fatte rientrare.